Salve, buongiorno è un assassino alle spalle non vero niente non c'è chi stia vedi qua, impostazioni aspetteremo lì c'è fumettosa cosa vedi fumettosa ma che lo devi fermare? alle 4 a me è un'usulere è il sorprende amici ok è il barco non so non c'è vale qui Lui è finito, lui, ok, vedi, te ne ho un po', quanto lo faccio? Zucco da quanto arriva io, no? Uno, adesso si vede, no? Il pietro, il pietro, il pietro, il pietro, avanti, al pietro, avanti, ok, sono pochi. 10 e sottile. Ma quanto è buono, vuol dire che sono pochi e rupi? xxxxx. Il quadrato con il tuo, va, 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 x, x, tira. Ok. Non puoi salvarlo, eh? No, non puoi salvarlo, infatti devi... devi ricordartelo. Ok. Ok. hai sta siliconi un bel acquiffro, un po' valore, guardami il mio. Esci. Esci. Esci, esci Esci, esci. Infatti le bossezioni non è cele. Interazione Invece Le super sono L2 R2 Quindi L1 lancio Non mi serve Che è fuori R1 Interazione di Sartre Invece qua Allora Andiamo Allora Che noi vogliamo Sì Allora 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 Non fa niente Il triangolo Allora Allora Sì, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace. non è che non si può fare un po' di nuovo no Ah Oh Quasi They don't call me the main man for nothing Ah no Ah 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 E' bello Non è bella E' bella la mia? No Vabbè bella si Tu devi schiacciare Tu devi schiacciare L'hai vista o cambia come a tenta? No Hai vista? Si Adesso magari questo però ti piace come si fa Non ti piace però Ti piace ma non ti piace Ti piace ma non ti piace No 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 Ah, credo che c'è un po' di controllo Ah, cazzo Sì, non posso capire? Ahia, ahia, basta Ah, non posso farlo Non sei sembratica Non sei sembratica Non sei sembratica Ah, non basta, sì Ah, appunto, basta E quindi lì? No, puoi fare solo tu, eh Se vuoi, viene la manzana D'alma 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 Shazam Nel giù non c'è, perché si rimuole Anche l'altro non c'è, infatti L'Extrutor Usiamo Scorpion Injustice D'alma 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 Sì, è la nostra, l'avete di trasportare la parola dietro. Qua. Prendeci il caffè? Non tocca mai scegliere. Questa è stata forte, però... È scorretta. Guarda. È scorretta. Questa un po'. È scorrettissimo. No, vabbè. Guarda che la nostra, come a testa è nostra, è basta basta. Quando faccio il teletrasporto, tu pari e poi mi picchi, guarda che... Non è scorretta. Eh, certo. Non sono d'accordo. Vino a capace o a questa? Con questa. Normale. Vabbè, ti chiederò un po' tecnico, tra il zero e battaglia. Normale? No, sbagliato. Dietro, normale. Eh, ho capito. Non mi spogliare. No. No, va. Meglia. Il boss è super, ma è cattivo. Non credo che lo c'ha fatto di questo. L'ho distrutta. Ho visto, ho visto. Certo. Guardate, se ho un po' dibattuto sia la prima, ma la seconda volta non la prima volta, sì. Ma piace, la terza è bella proprio distante. No, vabbè. Ma io me ne ho diventato solo... Oh, vabbè, non mi spogliare. No, vabbè. Vabbè, ma... Vabbè. Vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè. Vabbè, vabbè. 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 è un po' bello è un po' bello lo bobo un po' tipo da me sei sorgato se tu sia pomo che non serve a niente ah, mirror match mirror quando sei te contro le persone giove dai allora per essere la mossa intanto specialità gusci nucleari lo bobo carica le gusci dall'effetto del suo attacco successivo funcino spaziale ah bolle quadrato c'è una cosa ah fai 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 un po' di fai 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 a fai 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 Sì! Qualche avrò l'assurante e poi non è quale fuori per entrare. Per esempio ricordiamoci da che fine mi ha fatto su quella media squadra per l'aria e la filiera su Google da un vento a te lo ripiego. In studio faccio sempre. No, no, non serve, ma la realtà non capisce. Dopo averlo fatto 25 volte. Quindi lancio il fondo. Ecco, ti faccio un po' l'aria. E' anti-fattica però. Poi se la faccia inizia anche due caccia in braccia. L'ho mostrato la catena dove c'è per me. Qui dietro è... Invece se fai più del cancro è la palta. 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 Invece se fai più del cancro. Forza! Noo, bravo! Oh no, bravo! Non pare, pare! Noo No, non so, non so Che? questo è caso solo l'ultimo è fisso del superman che cosa è strano lo lega alla notte perché è il partito meglio che si è strano va bene f***** oh no vabbè 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 scelata catena puoi saltare? va bene, scelata è morto è morto una combo la vogliamo sapere o no? ah questa qua dietro quadrato y dietro quadrato y dietro quadrato y va presa bella presa no vai 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 scelta va bene vai 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 che ridere che ridere oh che ridere ma dai che ti fa per scutare il genere macchina no è mortissimo lo stesso tempo è morto è morto è morto è morto è morto ma scusa gli alberi è morto sbaccato di mazzate io mi rilasso i capelli cos'è che hai dei rasi? si devi fare come dopo? no batman e dopo comunque è un moto spaziale, Batman se lo mangia a colazzia ma cosa? ma che sono due maschi? no, è una bambina non vado su tutte le altre ma basta basta non mi disse Batman, comunque è una ragazza che sembra una bambina però è una ragazza cerca la trama di no di non vuoi dire quella cosa che sei facendo tu di quella delle bambine che sono una ragazza che sono una bambina no, cerca la trama di Andrew ci sono è una ragazza che inglese d'altro non è un uomo 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 ma quello di capacità di generale non è un uomo non è un uomo c'è tanto no certo guarda se con i suoi protagonisti di così male un po c'era quella è una panartina comunque ma no no lo leggerò perché sono assenna qua quindi non c'è qualcosa quindi se vi chiedo questi sono uccisi in un due euro devastano l'intero paradiso per tornare in vita all'interno non ero voluto e mi fanno troppo sattivo il personaggio tranquillo sto veramente cattivo che non aveva l'inferno bellissimo però c'è uno dei miei preferiti deathstroke 10 anni no comunque in pratica parla di questa ragazza traumatizzata è andata in giro e alla fine si scopre un po' sattivo e allora si è stato male all'ospedale di bunda che ha un pianto americano c'è un maniaco un figlio no arrivò a uno di loro a questo qua che è diverso uccidere le persone però solo le persone che ridono e sorridono queste sono le presse e quindi si parla con le parole super intelligente quindi si possono uscire di altro dall'ospedale e non uscire però lei vuole morire non si può lanciare 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 non è scritto non è che cosa non mi sparo non mi sparo non mi sparo proprio il guscio vieni vada c'è bravo con la catena si schiaccia le due non ho mai come potenza non si prende il video quello che ti dira il caccio in faccia quando puoi do vai vai adesso se perde sono contento sei contenta va bene allora tempo aiuto tu e se volerai il rapporto di padelluliana tra te qui sicuramente ora se la te lo è proprio no perchè me la te lo è ok allora lui è il terzo ma 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 lui è il terzo non 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 no a parte dello SuperSport no, scusate, mai c'è stato un segno tantissimo ma e dei poli nero di armato di SuperSport e... il suo scato 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 grande destro si sparava già? giochi a caso no, si sparava a chi? e vince a destro il suo scato il suo scato il suo scato però non arriva fino a quadro perché fa lo scato da vicino non non ma il suo scato è diventato un po' Pesso con la maschera di pagina E i deadpool e i deadstrock che hanno l'altro Sono tutti due vittime Wade Wilson e Wade Wilson Scusa, dentro le maverie Scusa, dentro le maverie Scusa, sembra che si parla di fare l'altro Scusa, non è vero Non mi ha scurato Si, è vero 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 Non è bastato Si, è vero 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 No, 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 no Nooo, che sgazza! Ha una percentazione steribile con le poca vita! Bella questa! È un brutto zoro, eh? Non sa che appunti! Toh! No, non mi piace! Nooo, non mi piace! Nooo, non mi piace! Nooo, non mi piace! Qua non scopertissimo! Non mi piace! Ovviamente! Ma io non c'hai lì! No, non c'hai lì! Ma c'è lì, sei lì! Dai! Dai, dai! Dai! Mi fai rialzare! No! No! Tuttulo! No! Ma che pastiglia! Le catene sono fatte se qua, voglio indietro di tassi. Tocchi, chi pensa? Vai! Ho appena notato la faccia, sennò schiaccia! Sulla faccia della macchina. Faccio la sua faccia fra tutti? No, Nicola, faccio la mia roba. Catwoman, prendo un'altra, dai! Sei piccolina, dovrei non perdere! Stai Catwoman! Stai Catwoman! Mi sa che... Che giunge Catwoman non ha senso, perché mi sa che lui è un po' più forte. L'unico spunto che sia stato è il prossimo. Ma ci sto poi io a manda a questa... Che fa la misura! No, 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 no! Tanto! Però non la faccio, non lo so, non lo so, non lo so. Ma ci ho provato e ci devi riuscire tutti. No, 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 no! No, 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 no! Sono due categorie a parte, sono i dei, i tre d'oro, vediamo! No, 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 no! No, 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 no! Che cazzo sta venendo di... Ma li guarda, li guarda! Ma li guarda! Ma li guarda! No, 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 no! Ma li guarda! Ma li guarda! Ma li guarda! C'è anche un'armatura al contro, non so... Come faccio a te! Sette! Ma che un set non ci... Forza dei diamanti! Sette! Hai capito? Sì! Di diamanti! Niente diamanti, niente... Allora, non mi piace, non mi piace. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Vai! Per l'arma, non so, per te ne voglio vedere qua. Cosa? C'è un po' che è l'emozione? Per quella mini-pistola... E la doccia! E la doccia! c'è un po' scendere dai, ce la puoi fare? si, un boss, certo è difficile, che velocissima stai provando? no, non si fa un po' più o meno ecco qui ciao brutto antipatico non è un fuji da pompa che spara kriptonite no, più perché ci sono carne morte no oh, più carne c'è tutto il tempo che vuoi come è questo? Mario Mario andai che cazzo si ma stai picchiando ma che ti sta picchiando no scappo grazie ti sentiamo del no no dai dai non 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 ok non 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 no ho capito ma non c'era oh I oh ah Ma qui sta? Ma qui sta? Ma stai chitivi tu Sicuramente non ci si E' una brutta persona Ma qui sta? E' una brutta persona Ma qui sta? Ma qui sta? Ma che giù sta? E' tutto super buono Ma noi non c'è nemmeno che lo può Eh no, mi devo giustare Ho messo perché io sono lui Sarà il tempo a te Guardi Questa è molto decente Che ha un po' di personalità Ma che dà il gioco Mori! Mori! Però io hai fatto l'inter-chant Io Vieni Vai via! I nostri trasalgano I nostri No Si è diventato un cristallo nello spazio Ah No 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 Mostro in quel caso l'America con tantissimi superpaventi che già morti in sua mano, però le fettici abbiamo sbagliato per fare il nostro cerco ma ho visto che è questo ma ho visto che è questo non so che è questo non so che è questo un progetto è stato un amico, eh, ma chi? ma, ma, oh hai scelto il personaggio più cattivo di superman ancora si, infatti è negattiva si, ma è ancora più cattivo di superman cattivo si, poi è falso, falso dopo, è totalmente fuori di testa benissimo ha ucciso tutti vabbè, anche tu quella che vettura è una fine brutta si, ma non così dai e comunque era negattivi eh, ma magari anche Harley Quinn è negattivi non è cattiva nel finale c'era cattiva di cosa del buono e poi è cattiva è non è cattiva è non è cattiva non è non è cattiva fastidio vai, vai, vai andiamo è un momento attrazione nel 2000 di Harley Quinn Harley Quinn non è cattiva è cattiva è cattiva è cattiva e psicopatica è un po' stupida no, è un medico è un po' stupido